Il 9 agosto dello scorso anno un giovane escursionista francese, Simon Gautier, perde la vita tra le montagne del Cilento e precisamente nel territorio di San Giovanni Appiro, mentre era impegnato in un'impresa che doveva rivelarsi epocale. Una tragedia che nella giornata di ieri l'amministrazione comunale di San Giovanni Appiro ha voluto ricordare stringendosi al dolore della famiglia ad un anno dalla sua morte. Nei giorni scorsi la madre di Simon del Fingo d'Art, accompagnata dalla figlia e dal compagno, ha raggiunto la piccola località del Golfo di Policastro dove è stata accolta con grande affetto dalla comunità che insieme a lei, nella giornata di ieri, ha pianto e ricordato il giovane escursionista che dimostrando un grande interesse per la costiera cilentana aveva deciso di intraprendere una suggestiva avventura che purtroppo gli è costata la vita a seguito di una tragica caduta a pochi passi da pianoro di Scario. La giornata in ricordo di Simon Gautier è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale di San Giovanni Appiro che per l'occasione ha anche voluto riconoscere e consegnare la cittadinanza onoraria a Simon Gautier e a sua madre Delfin in un consiglio comunale monotematico svoltosi nel pomeriggio e conclusosi con la consegna alla signora Godard del gagliardetto del comune e dei documenti che certificano le cittadinanze onorarie per lei e suo figlio Simon. Le motivazioni spiegate dal sindaco sono legate innanzitutto all'amore che il giovane escursionista francese aveva dimostrato per la terra cilentana nell'intraprendere l'avventura che purtroppo si è poi conclusa tragicamente. Lo stesso amore che sua madre, nonostante la tragicità degli eventi, ha continuato a dimostrare nei confronti della comunità sangiovannese inviando aiuti durante l'emergenza Covid. Dopo la cerimonia di riconoscimento della cittadinanza onoraria, la comunità e la famiglia di Simon Gautier si è spostata in località Pianoro di Ciolandrea dove fu ritrovato il corpo senza vita del giovane e dove è posizionato un sasso con sopra inciso il nome a eterna memoria del giovane che da ieri insieme a sua madre è parte della comunità di San Giovanni a Piro.